Massimo Serboni, titolare di Cantine Serboni di Serra Petrona e abbiamo un ottimo prodotto delle marche di Ocg, appunto la Vernaccia di Serra Petrona. La Vernaccia di Serra Petrona è la prima di Ocg delle marche, è stata presa proprio anche la di Ocg perché è un prodotto di nicchia, pochissime cantine e con una particolarità che ha tre fermentazioni e questo qui ha portato a prendere la di Ocg e soprattutto le persone si sono innamorate perché il prodotto ne è poco e se ne produce ancora meno, pochissimo. Ok, quindi un prodotto d'élite delle marche, un ottimo vino sia da pasto che da dessert.